Allora Jeffrey ci siamo, inizia una nuova avventura del San Costanzo Show su Fano TV Sì, abbiamo il Pesce Azzurro Show, una nuova trasmissione, sono 5 puntate in onda il giovedì alle 21 su Fano TV C'è una frenesia, scusa Lino, un attimo, sono impegnato, l'ho detto, pronto? Pronto, mi scusi, sono l'Orieta Pedotti, mo lei non mi ha riconosciuto perché mi chiamano tutti Orieta Pilotti Non sa perché, perché dico che attacco dei gran piloti Per favore, adesso sono in televisione Non è vero niente, sono delle leggende metropolitane Stia a sentire, le volevo attaccare un bel pilotto Io perché quest'anno, quando arriva la primavera, sono sempre molto inappetente E invece quest'anno sono sgolfanata Ho molto appetito, capito? Sono sempre molto affamata Molto, molto Guardi, Orieta, lei col pesce azzurro casca pennello Col pesce azzurro? Pesce azzurro! Ma ci fanno anche le patate? Perché io le patate ne mangio quinta latte Ne mangio delle tonnellate di pesce azzurro È sano, nutriente, si digerisce Siamo in una botte di ferro La saluto, Orieta, la saluto Pesce azzurro e patata, ciao, va bene, ciao Orieta, arrivederci, mamma mia Questi chiamano in continuazione L'ho detto, sono in tv Scusa Lino, ma qui c'è una frenesia prima delle puntate Mamma mia, eh beh, però, basta, pronto? Pronto, Jeffrey? Sono la rosa della cieca, se sentì È un macello, mi è successo un macello Stasera niente cena Avevo messo il pesce, la gradella Ah, c'è niente, ho passato il porcino Mamma mia, c'è niente Con facendo adesso per già cena stasera Oh mamma, un altro po' di pesce lo troviamo, Rosa Eh, speran Sì, guardi, ti richiamo tra poco Sono impegnato, sono in tv Mi fate fare queste figure Ti richiamo dopo, non ti preoccupare Ciao, Jeffrey, ciao, bello, ciao Mamma mia, scusate Giovedì alle 21 Prima puntata del Pesce Azzurro Show E poi per giovedì, giovedì, giovedì dopo Cinque puntate Ci vediamo San Costanzo Show Pesce Azzurro Show Pesce Azzurro Show